La polizia ha tentato di fare una serie di cariche d'alleggerimento, si dice così, proprio per far capire, cioè per disperdere questo gruppetto. Si usa nelle manifestazioni fare, di solito si creano dei momenti di reazione, basta una o due cariche d'alleggerimento e la situazione torna normale. Quello che abbiamo invece notato oggi era una pianificazione precisa di attacco alle forze dell'ordine, anche dopo diverse cariche d'alleggerimento ci sono state molte più. Grazie a tutti. Sì. 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 Sì, Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Check, check, check. Grazie a tutti. 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 Sì, Liberty! Archie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.